Ciao a tutti, ciao Gallaccio, sei in onda con i nostri amici. Ciao Maffo, ciao come stai? Allora sto bene, vogliamo però spiegare un po' ai nostri futuri followers perché siamo qua, perché oggi nasce questo canale, questo momento di vita, di intrattenimento, che come lo chiamiamo? Abbiamo un nome che ci piace, giusto? Abbiamo deciso per belli e rilassati, quindi non belli e rilassati, perché non vogliamo esagerare, ma belli e rilassati, quindi diciamo una filosofia di prendere le cose con serietà, però insomma con una certa anche dose di ironia barra rilassatezza, anche se non è una parola che mi piace tantissimo, però siamo capiti, no? Quindi prendere le cose con tranquillità. Esatto, esatto, un po' diciamo la mission del nostro canale, un po' diciamo così, condividere, aiutare, diciamo così, i nostri amici a prendere la vita con un po' di ironia, un momento di sacratorio, ma allo stesso tempo portare avanti cose interessanti, spunti di riflessione e anche fare compagnia un po' a chi alle volte torna dal lavoro, magari stressato qua di là, vuol trovare diciamo un porto sicuro dove come essere diciamo così al bar, commentare l'attualità o avere spunti da due persone che magari hanno più tempo per informarsi di certi argomenti, di certe modalità di viaggio, eccetera, insomma. Quindi noi puntiamo al contenuto ma anche all'atteggiamento, una visione della vita, cercando di prenderla in un certo modo. Poi i contenuti sono importanti, le esperienze sono importanti, ma anche poi uno come le vive. È sempre una questione di atteggiamento, cosa ne pensi tu? Bravo Gallo, tu hai toccato per me uno degli aspetti principali, cioè l'atteggiamento, perché comunque noi nella nostra esperienza abbiamo capito che non c'è positivo o negativo, ma c'è insomma come si affrontano le cose. Noi cerchiamo di portarvi un po' il nostro modo di trasformare il pionbo in oro, un po' come essere degli alchimisti. Ma sì, cercare la positività in tutto, uno sguardo un po' diverso, ma più che diverso, come dicevi tu prima, un po' di sacratorio, un po' tentando di… sai cos'è, soprattutto, quando poi uno è dentro alle cose, a volte perde un po' il focus, quindi magari fare un passo indietro, quel distacco che ti permette magari di poter dire le cose con un po' più di lucidità, ma non è una questione di intelligenza, è una questione di essere, ti ripeto, un attimo fare un passo indietro dal mondo, dal caos e quindi magari dire, ma con un piccolo bagno di umiltà, dire insomma siamo un po' fuori e cerchiamo di essere un po' più lucidi, diciamo così, dai. No, è chiaro, è giusto, sì, una visione un po' come dire, a volo d'aquila da sopra, un po' come anche, come diceva Oscar Wilde, la cosa più difficile da vedere è la punta del proprio naso, e quindi noi daremo un po' un aiuto, però non è che vogliamo, diciamo così, focalizzarci su qualcosa di particolare, potremo parlare dal calcio, all'attualità, ai viaggi, al commentare persone o blog di persone che abbiamo visto e conosciuto, vogliamo cercare di essere una guida, un punto di vista, dai, un attimo diverso, dar degli spunti, più grande dar degli spunti, che poi le persone a suo modo, con il tempo a disposizione, con le loro possibilità proprio da punto di tempo, poi lo possono usare come un veicolo per informarsi, per, sai, a volte basta una miccia, dai, una piccola miccia, un piccolo fiammifero, che poi ognuno lo usa come vuole, insomma, può divampare un grande vicendio di conoscenza, oppure rimane lì e si fa un attimo piccalore. Sì, ma anche essere come dei piccoli enzimi, insomma, che accelerano una reazione, magari, capito, strando un po' di informazioni, magari qualcuno può prendere quello spunto, e magari possiamo essere utili. Comunque, diciamo così che noi, in tutto ciò, il nome del canale, che sarà Belli Rilassati, è anche perché comunque in tutto ciò bisogna mantenere il focus, perché siamo, diciamo così, al mondo, siamo al mondo, anche perché bisogna anche comunque cercare di star bene, avere sempre questo approccio positivo, bello, rilassato. E quindi noi metteremo sempre questo, cercheremo sempre di avere atteggiamenti di questo tipo qui, vi cercheremo sempre di trasmettere questo mood e poi accetteremo anche i vostri consigli, se ci commenterete, se ci chiederete delle cose nei commenti, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, più si è possibilità di interagire, meglio è, ecco. Perfettamente d'accordo. Quindi, oggi, per partire... Allora, adesso, innanzitutto, comunque, visto che era un po' l'apertura, io adesso farei un attimo un saluto, che salutiamo i nostri amici. Poi dopo, magari, vediamo un attimo come impostare, diciamo così, la prima puntata. Adesso io direi di andare a chiudere la presentazione e poi... Una preview, questa è stata una preview, dai, diciamo... Sì, esatto. La gente già si rende conto un po' di che cosa si parla. Esatto, una bella info che anche da questa potete darci commenti e spunti e poi adesso noi andiamo magari a lavorare su un tema e su un argomento. Già, magari, anche di cose già vissute. Fate, per esempio, io e Tagallo, non so, che abbiamo affrontato, non so, che il Cammino di Santiago può essere già uno spunto interessante. Non so se vogliamo dirlo, tu, diciamo, vivi fuori dall'Italia e quindi potrebbe essere già anche quello un altro spunto. Insomma, tantissime cose. Comunque, al momento, io direi che Belli e Rilassati parte da qui e visto che abbiamo citato il Cammino... Un'ultima cosa, vorrei dire che non necessariamente noi siamo attaccati all'attualità. Chiaro che adesso ci sappiamo benissimo qual è il tema predominante, però, proprio perché vogliamo dare un approccio differente, non è detto, anzi, magari più no che sì, che dobbiamo essere per forza agganciati alle cose attuali. Magari possiamo parlare di una cosa, di un viaggio di un anno fa, di una cosa che abbiamo visto, abbiamo una persona incontrata tre anni fa, quindi non siamo, diciamo, temporalmente sul pezzo. Cosa ne pensi tu? No, sono pienamente d'accordo, anche perché, visto quando uno è bello e rilassato, la sua mente spazia, svaria da un momento all'altro. E ha un ritmo diverso anche, magari, forse, rispetto al ritmo normale, ecco, possiamo dire così. Quindi, avendo un ritmo diverso, non sei sincrono, quindi magari rimari un po' indietro e le cose le mastichi un po' più di tranquillità. Cosa ne pensi tu? No, no, sono d'accordo. Quindi, insomma, era solo per dirvi che noi ci siamo. Poi, dopo, quello che si tratterà, si cercherà sempre di trattare qualcosa che sarà interessante, ma non necessariamente si seguirà o un filo logico, o temporale, o di luogo. Come hai detto tu, può essere un viaggio, un'esperienza, un cibo, una cosa provata, una cosa fatta, un libro letto, un artista. E poi, anche perché è una persona conosciuta, per esempio, noi abbiamo personaggi di grande carattere, non so, l'Avvocato Ucraino, il grande Giorgio Samui, il Pippo Lo Squaro, tutti i personaggi che comunque può darsi anche che inseriremo nelle nostre trasmissioni, o anche no. Comunque, insomma, era per dire che noi svariamo, potrebbero esserci anche momenti di interviste. C'è di tutto, anche come sei tu, degli spunti, cosa ne pensate, perché non fate questa cosa qui, non fate quest'altra, non leggete quella cosa lì, qualsiasi cosa, noi siamo pronti a tutto. Allora, facciamo un bel saluto ai nostri ragazzi, ai nostri amici, alle nostre amiche, perché comunque anche quello è un argomento sempre bello, comunque perché no, la seconda metà del cielo, insomma. Allora, niente, belli rilassati da ora in onda, Maffo e Gallo vi salutano. Ti è piaciuta questa prima intervista, questo primo collegamento, poi chiediamo, ti è piaciuto? A me è piaciuto, è stato molto, perché ho sentito il mio, diciamo, mi sono sentito bello rilassato. A tuo agio. A mio agio e quindi abbiamo... Anch'io sono a mio agio. Molto bene, molto bene. Alle volte ci potrà fare anche interventi dall'esterno, adesso oggi siamo molto belli rilassati in casa propria, però insomma. Va bene. Allora salutiamo tutti e poi dopo, dietro le quinte, insomma definiamo i contenuti da proporre. Esatto. Ciao, Maffo. Ciao, Gallo. Ciao.